Con una preghiera per la pace a cui si è unita anche la comunità musulmana, ha avuto inizio stamane, 28 settembre, presso l'hotel Polonautico di Salerno, il 27esimo congresso provinciale Acli di Salerno, in occasione dell'ottantesimo compleanno dell'associazione, con 44 delegati della provincia e rappresentanza di 4.552 soci. Il tema scelto è il coraggio della pace, un richiamo ai valori che sono la base della fondazione dell'associazione, avvenuta nel 1944 all'indomani della seconda guerra mondiale. È una sfida importante ma decisiva, avere il coraggio di fare la pace. Oggi sembra che si debba fare la guerra per ottenere la pace, ma questa è una falsità, bisogna fare la pace per ottenere la pace. Vediamo anche con le ultime vicende che stanno succedendo in Libano, che la guerra porta soltanto alla guerra, non risolverà mai nessun tipo di conflitto. Ecco, e le Acli nel loro piccolo però in tutta Italia stanno portando questo motto, che poi sono parole di Papa Francesco, che è poco ascoltato, o quantomeno poco vissuto. Avere il coraggio di dire che la pace è la vera soluzione. Le guerre sono sempre evitabili, la pace è sempre possibile. Le Acli, pilastro della società civile del terzo settore, operano nei settori del volontariato, del no profit e dell'impresa sociale. Con la partecipazione attiva dei suoi membri, l'Associazione promuove il lavoro, educa la cittadinanza consapevole e attiva e supporta i cittadini in situazioni di emorginazione o rischio di esclusione sociale. La nostra democrazia è fondata sulla Costituzione e la Costituzione vuole una democrazia sostanziale. Cioè le persone devono capire che le istituzioni sono appunto al servizio delle persone, al servizio soprattutto dei più fragili. La nostra Costituzione prevede che si vada al passo dei più lenti, di quelli che non ce la fanno. E invece oggi siamo un po' dominati dalle oligarchie, di chi ha i soldi, di chi ha il potere. Invece bisogna tornare al pubblico e credere quindi alla democrazia, cioè a chi decide per tutti, che cerca di mettere tutti sullo stesso piano, appunto una democrazia sostanziale. Noi oggi festeggiamo gli 80 anni delle Acre e lo festeggiamo soprattutto con delle iniziative di legge, quella sulla partecipazione, per allenare le persone alla partecipazione politica, perché questa disaffezione è una cancrena per il nostro paese. Ma lo facciamo anche insieme a tante altre associazioni. Ieri l'altro abbiamo consegnato 1.300.000 firme sull'autonomia differenziata. E' stato un mezzo miracolo, in un mese e mezzo poter portare quelle firme. Le Acre ne hanno raccolte decine di migliaia, soprattutto al nord Italia. E questa è una cosa che ci rende orgogliosi, aver fatto comprendere che non è una questione rilegata al sud, ma è una questione che riguarda tutta l'Italia. In un mondo ormai devastato dalla guerra ci è sembrato naturale e normale discutere di quello che è l'argomento del momento. Peraltro noi come Acre salernitane l'abbiamo declinato secondo quattro principi. quattro valori, partecipazione, accoglienza, coesione ed equità. Questo perché? Per essere fedeli alle nostre tradizioni, alla democrazia, al lavoro, ma soprattutto per essere pronti e partecipi all'invito che il Santo Padre ci ha rivolto il primo giugno, quando ci è chiesto di adottare uno stile popolare, uno stile democratico, uno stile cristiano. I lavori del congresso sono stati arricchiti da interventi di personalità di spicco, tra cui i vertici nazionali e regionali delle ACLI, rappresentanti delle comunità religiose, politici, enti locali, terzo settore, sindacati e mondo accademico. Un appello a tre battaglie che dobbiamo fare insieme. La battaglia contro le povertà. E su questo fronte le ACLI sono impegnate ovviamente da sempre. Il potere d'acquisto dei salari e gli stipendi è diminuito del 6%, anche se è cresciuta l'occupazione, ma la condizione delle famiglie rimane pesante, soprattutto al sud. Una battaglia contro l'autonomia differenziata, per non spaccare l'Italia e per non avere due sistemi completamente diversi per la sanità pubblica e per la scuola pubblica, che dobbiamo difendere in quanto tale, perché sono servizi essenziali di civiltà. E poi una battaglia per la pace. Stiamo assistendo a un calvario, al martirio di un popolo, soprattutto in Palestina, Gaza, e non è più possibile tollerare quelle immagini di morti indifesi, di popolazione civile massacrata, di bambini mutilati. Mutilati. Dobbiamo reagire per creare perlomeno un cessato e fuoco. Non ci sono le condizioni per la pace oggi. C'è troppo odio, troppi conflitti si sono accumulati, ma per un cessato e fuoco, per fermare questo bagno di sangue, ci sono le condizioni e dobbiamo impegnarci tutti. Il tema della pace è il mainstream del momento. Abbiamo degli scenari di guerra insopportabili disseminati nel mondo, la Palestina, l'Ucraina e anche tante altre guerre dimenticate. Bisogna ritrovare la capacità di declinare la parola pace nella concretezza, la possibilità che l'offensiva diplomatica debba essere l'unica arma da usare nella composizione dei conflitti internazionali, insieme a un concetto da rivalutare fortemente, quello della legalità internazionale. Allora, da questo punto di vista, bisogna quasi descrivere i nostri modelli di pensiero, pensare pace. Questo deve essere uno degli obiettivi ai quali dobbiamo dedicarci, ai vari livelli di responsabilità, ma soprattutto come coscienza diffusa, coscienza popolare diffusa. In occasione del congresso è stato allestito un angolo con i simboli dell'olivo, un comune a tutti, del Vangelo, del Corano e della Menorà, nonché con la bandiera della pace. Grazie all'archivio storico e all'area cultura delle Acli è stato realizzato inoltre un lavoro che racconta la storia dell'associazione attraverso i manifesti d'epoca che hanno segnato le tappe di un lungo cammino dalla fondazione ai nostri giorni. La mostra propone otto pannelli audiovisivi ed è visitabile ad ingresso libero.